in realtà si sono disperato 0 euro in tutto ora come ora ho 5000 euro che è tutto quello che avete voi messi assieme lo so però dovete sapere che una persona famosa importante deve avere molto di più quindi nei miei standard sono un povero di merda ma tranquilli perché ora esce questo video vi vedrò un po' per l'Italia, mi pagano un po' di persone comunque ritornerò a essere il VIP che meritate lungi da me ritornare su Twitch come uno straccione di merda no, devo tornare e avere un orologio caspita, devi proprio mangiare pane e salame magari pane e salame ma che dici? Io ne ho 2k scrivete sinceramente quanto avete di soldi in tutto conservati sia nel portafoglio se non avete un conto o nel conto se avete il conto voglio vedere quanto siamo messi 4.200 euro abbiamo là 28.000 2.000 6.300 10.000 bello 10.000 2.000 6.200 ahhh ahhh ma vi facevo dei poveracci ciao Marco ma guardate qua che numeri 50.000 non voglio leggere quelli bassi perché sono davvero bassissimi c'è uno strano dislivello nessuno ha 1.000 euro o 5 o 5.000 oh chiocciola Marco Merrino che bello vederti dissento su tutte le tue opinioni ma ti amo lo stesso se questo non è amore dimmelo tu allora cos'è che ne pensi dell'intelligenza e se uno ha IQ basso si deve uccidere secondo te? per me sì si deve uccidere ma socialmente parlando non deve togliersi la vita perché è illegale e fa rimanere male tutti però deve esiliarsi non deve stare vicino a chi ha l'IQ l'IQ alto perché se no fa una brutta figura e fa imbarazzare quelli che hanno IQ alto perché purtroppo una grande intelligenza spesso e volentieri equivale anche a intelligenza emotiva quindi gli stupidi se te li porti con te loro non si rendono conto di essere stupidi ma tu sì perché sei intelligente e siccome lo sei anche emotivamente ti imbarazzi per loro davvero una tragedia ragazzi poco intelligenti statevenne a casa e guardate i video mettete like, dislike quello è il vostro compito ed è un grande compito comunque è il compito che fa vivere a me ad esempio e a chi come me lavora in questo in questo ambito capito Sabaku io a me dispiace e vorrei magari questa clip la vedrà Michele ma vorrei scusarmi con lui per essere stato un po' troppo brutto nella live con Daniele ma a me mette inquietudine la storia che hanno avuto e lo so che ci sto ancora marciando su questa cosa qua però ci penso ogni giorno al fatto che loro comunque hanno fatto vedere a tutti quello che è successo con loro grande decisione sbagliata a parere di molti non a caso ha cancellato il video il motivo per cui io dissi quelle cose che penso il problema è stato che io le abbia dette è che vivo una stranissima una stranissima malinconia ovvero di avere dei colleghi che fanno delle cazzate nelle quali un po' mi rispecchio e quindi odio un po' me odiando loro e non mi sto paragulando una delle cose che però non rivedo in me che mi ha dato oggettivamente partito di quella storia là è che quando ho visto per esempio il video di della sua ex lorders porda tarf pund come si chiama? lara fenrir volevo dire in realtà sapevo di lara ma non volevo ricordarmi fenrir è che parlo di creatività ok cicileso ciao eccomi qui solo per darti il mio amore buonanotte marcolino marcolone dai resta un pochino dieci minuti non fare il coglione parlo di creatività parlo di queste difficoltà personali che stavano vivendo che andavano a ostacolare quella che era la loro creatività ora non voglio mettermi a paragone perché molta gente mi reputa il grande grativo il grande genio non lo so per alcuni magari si io la vedo in una maniera più Marco ciao madwartog più intima che dà intrattenimento grazie dell'abbonamento ovvero che se c'è qualcosa che non va nella tua vita e c'è qualcosa di puzzolente e c'è qualcosa che veramente sta andando a marcire non so se si può chiamare creatività non lo so e usare questa parola per me ha un'importanza Giovanni perché io credo che l'unica parte creativa ad esempio di quel video che fece Lara fu quando disse guardate che sabaco ha dei problemi come ce l'abbiamo tutti eppure io eppure voi là c'è la genuinità e quello si potrebbe chiamare creativo e quello è creativo perché ha creato un modo per dire qualcosa dicendone palesemente un'altra che sembra una menzogna ma non lo è perché ci vedevo del vero ma parlare di creatività quando il contesto sono due persone che non sanno trattenersi nel ciao Marco ti trovo molto bene grazie della diretta a sorpresa grazie a voi grazie a voi di essere qua quando si tratta il contesto di due persone che si attaccano fra virgolette a vicenda con video deliranti e strani e non è colpa loro però un po' sì perché decidono loro di fare upload io esco veramente pazzo e quindi mi distraggo da quella che è la cordialità che bisognerebbe avere con tutti e inizio a fare un po' schifo è stato questo il motivo per cui sono stato in quel modo là nel video di Daniele io vi giuro non rimpiango quello che ho detto ma rimpiango come l'ho detto perché poi molta gente è venuta nei commenti ha detto ma come ti permetti a buttare fuori cose private che non so se sono vere o no io neanche so se sono vere o no ma una cosa è vera che io vivo la mia vita intima senza voler sapere niente di queste cose qua ma mi arrivano dagli amici di Michele dagli amici degli amici di Michele e loro credono che mi debbano arrivare solamente perché sono il loro collega questa cosa qua mi fa schifo ragazzi perché questi video qua che avevano caricato e io sono davvero contento del fatto che li abbiano cancellati è stata veramente una giustissima mossa non fanno altro che alimentare questa voglia italiana di sapere i cazzi degli altri oh è viva per farsi i cazzi degli altri io lo amo io voglio sapere tutto ciò che succede a tutti nell'intimità ma quando si parla di creatività cosa che loro hanno nominato e non io non gli sto mettendo parole in bocca secondo me bisogna stare un pochino più attenti perché quando si parla di arte e di creatività e di comunicazione l'importante è essere genuini ma quando si parla di tradimenti e strani video lui che fa il video pace no la musica lo zoom non è genuino è solo strano è pericoloso per tutti perciò questo è stato il motivo per cui io mi ero un pochino indispettito e mi scuso io gli voglio un sacco di bene a Michele sono stato un cattivo amico e collega in quel caso punto questo è quello che volevo dire è successo stupro a Palermo allora non ridere Marco rito perché mi aspetto tutto qua ragazzi vorrei pregarvi di non malmenarmi per quello che sto per dire perché non è controverso si è sempre sentito ma sta diventando sempre più un tabù internet io lo amo è la risorsa più grande che abbiamo serve a comunicare fra di noi a sentire tutte le comunicazioni fra di noi pure con gli altri ma a me sta dando molto fastidio che su internet come al solito vengono vengono intitolati tabù e proibiti alcuni topic e io sono così tanto per la libertà d'espressione che pure la gente che sbaglia a parlare deve farlo se in quel momento se lo sente altrimenti non verrà mai educata e a me dispiace enormemente che tutti i boomerini o i giovanini che si mettono a dire la ormai vecchiotta frase ma se si veste in quel modo cosa si aspetta debbano essere distrutte è una scema frase però va analizzata è importante che qualcuno dica questa cosa qua perché questo qualcuno deve essere educato e sapete perché sto usando la parola educazione perché dopo che è successa questa cosa qui tutte le donne principalmente di internet si sono prostrate a educatrici gli uomini sono così gli uomini devono smetterla noi dobbiamo avere le nostre libertà ed è certo che dovete averle è certo che dovete averle ed è certo che lo stupro è terribile ed è certo che quelli hanno una faccia di merda e si capisce che stupravano già dal primo acchitto si capisce ma ma io credo che in un contesto dove non sappiamo nulla di niente è importante analizzare tutto per capire come educare meglio le persone se vogliamo dar credito per ipotesi perché se no ci arrestano alla frase ma lei come si è comportata per arrivare a quel modo per arrivare in quel modo là se non diamo credito a questa cosa qua non avremo mai nessun elemento adatto a supportare quello che è un atteggiamento educativo nei rispetti e nei riguardi del maschio perché spesso i stupri arrivano dai maschietti e stiamo parlando anche di maschietti siciliani italiani con un'educazione sessuale pari a zero e che hanno uno in politica Salvini che dice io vorrei porco dio che idiota che stupida testa di cazzo io vorrei castrare queste persone e tutti i vecchietti oh oh no si perché io non posso stuprarti col mio minchia di pugno che te lo ficco nel culo eh buttana no io non posso prenderti bloccarti e ficcarti la mia testa nella vagina vero dio cane no è il cazzo il problema che stupido idiota di merda per dire cosa questo che purtroppo quando succedono queste cose perché dico questa cosa qua perché quando succedono queste cose qui gravi e sembrano impossibili da sistemare è importante analizzare tutto quanto pure quello che ci sembra scemo pure le frasi che sembrano idiote pure le frasi che dicono ma chissà lei com'è fatta non è importante perché è victim blaming questa sintesi le parole sintesi quanto le odio tu stai facendo victim blaming stai incolpando la la vittima dello stupro ma come faccio ma come si fa no non la sto incolpando però è palese che se una grande fetta di persone inizia a dire ma lei come è fatta vuol dire che almeno socialmente parlando esiste questa curiosità e questa curiosità se la distrugge e dice vaffanculo statevi zitti è colpa solo di quelli bisogna parlare solo di loro lei non ha niente a che vedere con questo i curiosi che vengono magari da un background boomer e stupido non parleranno mai più si spaventeranno però quando votano andranno da chi la vive in maniera molto dicotomica che vuol dire dicotomica i due club o ragione o torto e Salvini ragiona così quindi non possiamo a mio parere legittimare la nostra lamentela sociale se poi ci comportiamo a scegli il tuo club hanno solo loro torto questa cosa è successa solo solo 100% loro questa cosa qua non si sa perché noi non conosciamo niente di questo avvenimento qua e la gente ovviamente parla sempre prima che il giudice parli ci sono ovviamente delle oggettive colpe che possiamo dare a queste persone basta guardarle in faccia erano 6 facce di merdo 7 quant'erano poverazza porco dio ma sta di fatto che mi dispiace che nel mondo quella che a mio parere i boomer definiscono come difesa ovvero il non ti comportare così vicino a queste persone perché potrebbe succedere questo e non è che diventa colpa tua se succede ma magari metti un po' di benzina nel fuoco sta attenta questo discorso qua sta diventando togliere la libertà alle donne gliela devi togliere questa cosa qua non è più un stai attenta e togli e sono sicuro che molti la intendono così la intendono togli ma a mio parere molti no cioè nella grande curiosità da boomer di questa frase che è immortale ne parlai pure nel mio video che feci sullo stupro tempo fa secondo me qualcuno effettivamente preoccupato che si caga addosso e che deve attuare dei meccanismi di difesa nel mondo c'è anche perché ragazzi detta con grande sincerità dopo che vieni stuprato o stuprata le tue idee e ideologie te le ficchi un po' nella figa dove ti sta entrando anche il cazzo senza permesso ok tu vuoi prenderti tutte le libertà che vuoi ma dopo che succede è successo ed è molto peggio di toglierti delle libertà prendendola come meccanismo di difesa e non come grande grido femminista e mi dispiace che questi discorsi se li fai online oggi vengono presi come con le parole sintesi quanto odio victim blaming tu stai dando vlender ah ma tu stai facendo ploberto non sto facendo ploberto di ucane sto solamente parlando e magari qualcuno mi darà torto o magari avrò ragione ma se ma se i club durante un dialogo debbano per forza diventare stai dicendo una minchiata non parlare più o ah stai dicendo il giusto continuo a parlare per sempre a me dispiace perché si andrà a perdere l'analisi di quello che è un avvenimento e secondo me solamente tramite quella riuscirai a capire come non renderlo più una cosa che accade in futuro ed è la missione dovrebbe essere la missione la frase che è cercata è la frase che se l'è cercata che è sbagliata nasconde secondo me un concetto sensato secondo me bisognerebbe fare educazione su due lati educazione per i ragazzini su come comportarsi con le donne per le ragazze avere consapevolezza che il mondo per ora è così quindi prendere decisioni responsabili forse non è saggio girare da sola di notte in stazione a Milano oppure forse non è saggio mandare foto nuda a uno sconosciuto su internet per tre ore prendere il passaggio da uno sconosciuto eccetera Giorgia hai sintetizzato quello che sono riuscito a dire in un'ora perché sono fatto così ma già e a mio parere è anche questa una forma di educazione ovvero cercare di giustare meglio le parole perché se tu dici se l'è cercata e magari ha un senso per te sicuramente ce l'ha lo sta dicendo ma lo dici a delle ragazze o a dei ragazzi ragazze che su internet vogliono fare le educatrici e ragazzi su internet che vogliono difendere comunque quello che è il loro gender che viene super attaccato quando succedono queste cose qua da tutti i fronti accade che le ragazze ti odiano e i ragazzi ti amano e fanno noi siamo bravi noi non siamo tutti in quel modo là eh però guarda caso succede abbastanza spesso dal vostro pisellino no? vi faccio un esempio parlo di me quando stavo con la mia prima ragazza e questa ragazza qua l'ho lasciata perché le avevo detto che mi piaceva un'altra sono sempre stato molto onesto fin dall'inizio comunque ma non perché viva l'onestà mentire è figissimo ragazzi minchia trommi con qualcun'altra gli dici no non ho fatto niente a posto no? però a parte scherzi ho problemi con la mia coscienza soffro di disturbi divento pazzo se dico una bugia di questa grandezza a una persona perciò non potevo non dire che glielo ho detto questo per evitare di dire ma come non solo sei stato onesto non era onestà per me dovevo farlo e basta era giusto così fisicamente per la mia mente cioè fisicamente il mio colpo mentalmente per la mia mente comunque glielo ho detto e lei si era molto ribellata era una cosa che non sopportava schifo poi minchia ragazzi parliamo di 18-19 anni di età il massimo del minimo e quello che accadde alla fine l'ultima volta che ho visto questa persona qua è venuta a casa mia mi ha tolto i vestiti lei si è tolti mentre io dicevo no 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 per dieci minuti e mi ha scopato come si chiama questa cosa qua tandem quando il tandem si chiama se non sbaglio come si chiama per fare questa cosa qua quando uno dice no e l'altro lo scopava lo stesso è uno ah è uno stupro ok ok stupro si 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 mi aveva stuprato però boh mi era piaciuto alla fine è stato il fatto che ci sono stati quei grossi dieci minuti o cinque o un secondo in cui ho detto no non voglio farlo vattene non ti voglio più fatto sta che dopo che abbiamo smesso di scopare lei voleva un cioè voleva vincermi con la figa non ce l'ha fatta perché dopo che abbiamo finito di scopare gli ho detto senti comunque sia no e lei è impazzita e mi ricordo quelle ultime frasi che mi disse fu pezzo di merda ora io posso utilizzare questo avvenimento per scrivere un po' su twitter e creare una controffensiva che mi verrebbe un sacco accreditata contro le donne dicendo visto anche a noi però sapete perché non lo faccio perché creerei un club e io odio i club voi sapete solamente questa storia qua no ma chissà come l'ha vissuta lei chissà quale sono i particolari chissà qual è la verità oggettiva delle cose perciò io non mi sento di parlarne o di usare questo mio avvenimento come porta bandiera di quello che è lo stupro è solamente interessante e perché non lo faccio anche perché lei non c'è lei non può parlare di questa storia qua posso parlarne solo io e per questo dico che purtroppo è intimo lo stupro come dinamica perché tu devi analizzarlo da un punto di vista non intimo e quindi oggettivo quando invece intimo lo è ed è totalmente soggettivo il gender dei maschietti ha delle difficoltà di comprensione di quelle che sono le complessissime dinamiche femminili che mi fa un po' vergognare sono un po' tutti delle scimmie di merda e qualsiasi qualsiasi amico che io abbia mai avuto si perde in questa non formale dinamica di fare battute eh sì quella tizia cioè l'altra volta l'altra l'altra volta un vip ehm italiano ci trovavamo a un evento mi ha detto ti vuoi fare di cocaina con me serrone ciao bello e io ho fatto let's go siamo andati in bagno esce ste strisce ce le facciamo e c'era là il suo manager è la prima cosa anche lui si è pippato è la prima cosa che sto manager mi viene a dire in un contesto di droga quindi fighissimo siamo i più fighi milanesi yo fuckers in un contesto così mi esce il telefono e mi dice oh guarda che mi sono scopato a bruxelles non me ne fotte una madonna troia di niente di niente guarda questa questa fa cose a letto cioè stiamo facendo qualcosa di estremamente illegale e sicuramente lo stiamo facendo per sentirci dei fighi poi la cocaina è una fantastica droga non fatela mai è un veleno infatti mi hanno manipolato per farmi arrivare là voglio solamente essere figo voglio solamente essere figo non mi basta non mi basta essere normale voglio vedere cosa c'è di più e a volte arrivo ad avere di meno ma sono fatto così e quindi ci troviamo in questo contesto un po' estremo e devi parlarmi della figa che ti sei trombato cosa cazzo me ne frega e perché vi sto dando questo esempio perché questo è un esempio che sicuramente non capiterà a molti quindi è abbastanza particolare ma anche quando si particolareggia nella vita porco dio devo sentir parlare delle femmine come bidoni di sborra e non per dire poverine ma per dire che noia i maschietti Marco scusa per la domanda strana ma ciucceresti mai il pisello di tuo padre certo ragazzi io ho una foto in mente che però mia madre mi dirà ovviamente di no ma sarebbe la foto più bella del mondo cioè festa della mamma boom entri nel mio instagram vediamo cosa ma chi è questa donna aspetta è un po' vecchia porco dio sua madre io che ciuccio il seno di mia madre oh mio dio poi comunque si può bannare una cosa del genere no perché non è sessuale è allattamento cioè metterebbe veramente in difficoltà qualunque modo ciao Marco questo discorso non convince nemmeno te Marco che cazzo dici ma che cazzo dici mia madre domani mi chiama Marco la foto che vuoi fare con me dove ti allatto va bene e io non ne sono convinto ma sei completamente coglione ma tu pensi che la foto dei glitter sia quello che volevo fare io quello che faccio online non è mai quello che voglio fare sono un represso di merda vorrei poter fare un video dove mi spoglio e il mio cazzo diventa un'arma per uccidere i cattivi e poi viene la Samsung a dirmi tieni questi soldi e utilizzo il mio cazzo come coso di kebab per i soldi e diventa questo cumulo di soldi e poi li taglio e vado in Africa a dire ecco quelli che non avete che servete a mangiare e loro però non possono mangiarli perché sono soldi non è vero kebab e muoiono e non è colpa mia me la prendo con i kebabari che mi hanno insegnato così cioè questi video voglio fare qua ma non posso e devo fare i merreact ma che fa quello là e c'è Foot Locker che mi che mi ha preso per un evento c'è questa nuova linea di zaini e scarpe apparel chiamata Back to School e quindi hanno pensato prendiamo Marco che ha 34 anni e di scuola ne saprà sicuramente molto più di quelli che ci vanno ora non voglio criticare le vostre le vostre tattiche di marketing anche perché se io vado nel mio post e clicco e pigio su Foot Locker Italy e vado nel loro account troviamo che i due talent di Evox che sono stati chiamati per fare questa cosa siamo io e Rimoldigno Rimoldigno ha fatto ha fatto che si è messo lo zaino e guarda di là e ragazzi io non lo conosco non ero là ma sapete cosa c'è di là? niente ok Rimoldigno ha 235.000 follower su Instagram e like ne ha ottenuto 22.000 che è comunque 22.000 persone minchia tipo 6 stati e un pezzo e poi ci sono io che ho? 214.000 meno di lui ma quanti like ho fatto? 32.000 strano strano sarà che sotto sotto anche se sono un 34enne non vado più a scuola footlocker ha fatto benissimo a darmi quei soldazzi a me? certo che sì quindi andrò là e ci sarà questo evento di footlocker dove si gioca a Mario Kart ciao Marco tre anni fa sei venuto a mangiare a Milano a Italy e ho avuto e ho avuto la fortuna di beccarti e di servirti siccome ero il cameriere non ti ho mai ringraziato per tutti i fantastici video che ci hai regalato quindi ci tengo a farlo adesso mi ricordo anche che scherzare che scherzarti sul quanto volessi mangiarti il frigo pieno di carne ok quella volta là non abbiamo pagato perché la carne che mi ha servito ovviamente non è colpa tua ma era cucinata di merda era frullata la dovevamo pagare tantissimo e abbiamo detto il cazzo e ce ne siamo andati lo so è illegale ma la cosa veramente illegale era cucinare la carne come l'avevate cucinata quel giorno grazie mille per avermi salutato e ti voglio bene anche che sei venuto qua a dirmelo ma vai dal cuoco se è ancora lui e digli kumpà e fermo e guarda se capisci